La social è uno strumento che tra le tante potenzialità ha anche quella di realizzare una trasparenza che definiamo di fatto in tempo reale e soprattutto erga omnes, cioè che va a tutti, in quanto la trasparenza consente un accesso che comunque resta individuale, invece attraverso i social è possibile realizzare un accesso agli altri, una conoscenza, un'interlocuzione e anche una proposta migliorativa che può essere basata sull'interazione tra gli utenti che è uno strumento assolutamente prezioso anche se chiaramente nei primi tempi viene visto spesso come una sorta di intrusione nella sacralità delle attività pubbliche.